Ciao a tutti, sono Gerson Davide, taronatore delle Zebra Rugby durante il primo storico derby vinto contro la Benetton Trevisio. Che dire, una partita fantastica. Ricordo ancora tutte le emozioni del pre-partita e la gioia della vittoria. Ho avuto la fortuna di essere il man of the match e mi conservo ancora il pallone. Ovviamente quella vittoria la dedico a tutta la città di Parma e alla società, che ci ha creduto anche se uscivamo da un momento difficile. Saluto tutti i miei compagni e li ringrazio ancora perché se questo premio ora è in mano mia è sicuramente grazie a loro. È stata una partita veramente giocata fino all'ultimo minuto, ma che abbiamo avuto il modo di poter dominare perché ci eravamo preparati alla grande. Spero che la partita che andrete a vedere porti un po' di sorriso, un po' di gioia nelle vostre case perché stiamo attraversando un momento veramente difficile. Mi auguro di uscirne presto e chissà di poter bevere una birra assieme a voi al più presto lì a Parma. Ciao a tutti amici, a presto, ciao!